Cari amici eccoci ricollegati qui a Radio Pugini On Air, bentornati, come vi avevo promesso siamo qui per commentare in diretta ed aggiornarvi in tempo reale su ciò che Chiara Ferragni sta per dire. A che tempo che fa? Intervistata da Fabio Fazio, ma ecco che sembra il momento, stia aggiungendo, ora ha parlato, era ospite Massimo Giannini che sta congedando in questo momento Fabio Fazio. Vediamo se questo è il momento, ma da quello che abbiamo intuito sì, ora ancora ci sono gli applausi, sta uscendo Giannini e adesso dice Chiara Ferragni. Ecco l'ha appena annunciato Fabio Fazio e sta entrando Chiara Ferragni con un vestito molto sul classico, nero, un vestito semplice, questa è la scelta per questa sera. Ecco l'applauso del pubblico ed ecco si è accomodata. Ho sentito dire che c'era attesa per questa conversazione, dice Fabio Fazio, e dal pubblico si alzano delle grida addirittura, quindi ci sono sicuramente dei suoi fan. Oggi hai detto che tu tremi da paura, mi sono fatto paura da solo, perché io non so mica, dice Fabio Fazio, risponde Chiara Ferragni, ma io sono una persona che, tu sei una persona che mette proprio a suo agio le persone. E Fabio Fazio risponde, guarda io non faccio paura a nessuno, non sono un magistrato, non sono un tribunale, non sono un prete, questo non è un luogo dove si fanno domande che vuole qualcun altro, e questo naturalmente si rivolge al Codacons, non è un grado di giudizio, faccio il mio mestiere, e insomma parla della libertà di pensiero e di espressione anche secondo la Costituzione, parte l'applauso del pubblico, dicevo riferito al Codacons, perché il Codacons addirittura gli ha mandato le domande che avrebbe dovuto fare Fabio Fazio a Chiara Ferragni, quindi è una cosa davvero assurda, ma dice Fazio detto ciò, io credo che non si debba eludere niente questa sera, e se mi posso permettere, penso che sia l'occasione per essere sinceri, dobbiamo essere sinceri, dice Chiara, perché sai ho pensato tanto, ovviamente a questo incontro, in questi giorni ci sto ovviamente riflettendo, ho capito che il vero problema di tutto è, dice Fazio, come tu puoi essere sincera, come tu puoi essere percepita come sincera, perché su questo torniamo secondo me, quando vuoi, dice Chiara, adesso lo affrontiamo, intanto come stai? A parte la paura, il tremore, eh, tremavo un po', no, sto bene, dai, sono contenta di essere qua, dice Chiara, è un periodo un po' tosto, sono stati due mesi e mezzo, tutto va messo nel giusto contesto, diciamo, perché la mia storia è una storia piccola, così, rispetto alle tragedie che accadono ogni giorno nel mondo, quindi bisogna anche secondo me iniziare a relativizzare, no? Secondo me, se no, diventa tutto per colpa soprattutto anche di fare il nostro mestiere, dice Fazio, ma diamo senza offesa la giusta dimensione alle cose, senza offesa, dice Chiara, sono stati due mesi e mezzo tosti, ripete, in cui mi sono trovata proprio al centro di un'ondata d'odio, e tu penseresti che una come me è preparata, perché sono Chiara Ferragni, però dice Fazio, al di là dell'odio, che quello ci sta, ma penso, pensavo che tu fossi preparata anche ad immaginare anche che le cose potessero andare, sei preparata però niente di prepara alla violenza, di certi attacchi, quando senti veramente che sei attaccato da tutte le parti, è stato difficile anche per me, che sono una persona preparata, queste cose le ho vissute tante volte nella mia pelle, dice Chiara, però giochiamo a carte scoperte, quando ci siamo sentiti i giorni scorsi per concordare e confermare la tua venuta qua, dice Fazio, io ho detto a Chiara, Chiara tu sei come Oppenheimer, Oppenheimer hai inventato la bomba atomica, tu hai costruito sui social la tua vita, la tua carriera, la tua storia, che non hai uguali, hai quasi 30 milioni di follower, quindi insomma una cosa che non hai uguali, sei come la bomba atomica, dice Fazio, non puoi non sapere una cosa molto pericolosa, lo sai, io so i social media sono fantastici quando tutto va bene, sono un incubo, e quando le cose vanno male, dice la Ferrani, sei consapevole, lo sai però quando lo provi sulla tua pelle, è tutto quanto diverso e poi è un gioco, nel senso ci sono cose belle, quando tutti sono lì ad osannarti, naturalmente ti senti invincibile, invece quando ci sono momenti in cui viene criticato aspramente, anche a ragione in certi casi, è tutto più difficile, quindi ti senti un po' accerchiata, dice Chiara Ferragni, e questa è una cosa che è stata un po' difficile negli ultimi mesi, però dice Fazio, guarda ti dico, stavo dicendo prima quando ci siamo confermati la tua presenza, io ho detto magari ci ripensa, ci starà anche, invece devo dire che volevo esserci, è stato un bel gesto da parte tua, dice Fazio, poi le cose evolveranno nelle sedi opportune, si capirà, volevo farti vedere una cosa, abbiamo preparato un filmato, quello che si chiama Fenomeno Chiara Ferragni, non commuoverti, dice Fazio, stai tranquilla, ed ecco che ci stanno in questo momento facendo vedere un video che parla appunto di Chiara Ferragni, lei è stata pioniera in un momento, insomma parla quindi della sua carriera, di ciò che davvero ha creato questo lavoro da influencer, che è nato, praticamente cresciuto insieme a lei, è una delle prime, e poi anche ora immagini di Chiara Ferragni durante il Covid, vanno anche a vedere i gesti di solidarietà, di beneficenza che hanno fatto, tutti, in tutto il mondo, dice una intervistata, conoscono Chiara Ferragni, ed eccoci tornati in studio e Fazio dice questo è il fenomeno, il fenomeno che tu hai costruito, intanto ti ricordi che tu erai venuta nel 2017, dice la Ferragni sì, ho riguardato oggi la nostra intervista, continua Fazio, è chiaro che appartengo a una fase geologica diversa, io fatico ancora adesso, dice praticamente Fazio a capire insomma il lavoro, ma questo era per dirti che questo era sino a due mesi e mezzo fa, poi improvvisamente, un anno fa tu eri a Sanremo, aveva appena finito Sanremo, poi improvvisamente arriva la vicenda del Pandoro e poi adesso la vicenda di Federico, ossia Fedez, cosa è successo, come è potuto tutto ciò improvvisamente, chiede Fazio, probabilmente è stato uno spartiacque, questo dice Chiara Ferragni, questo 15 dicembre 2023 in cui c'è stata questa sentenza dell'antitrust, perché fino a quel momento io pensavo di aver fatto delle classiche operazioni commerciali legate ad operazioni di beneficenza, in totale buona fede, pensavo di non aver fatto niente di sbagliato, in quel momento mi sono resa conto che evidentemente se alcune persone avevano frainteso le mie intenzioni, avevano frainteso qualcosa che avevo detto, scritto, vuol dire che le cose potevano essere fatte in un altro modo, potevano essere fatte meglio e dette meglio, questo è stato un po' il momento di grosso cambiamento che ha iniziato tutti questi mesi un po' diversi. Dice Fazio, ho detto e lo ribadisco, che per rispetto di tutti gli organismi deputati ad indagare non voglio entrare in nessun modo nella vicenda, però si è parlato, come sai tu ne hai parlato, hai parlato nel primo tempo di errori di comunicazione, in realtà quello che viene contestato è che ci sia stata una comunicazione che ha indotto a credere coloro che compravano il pandoro che una parte di quel ricavato andasse a sostegno di un'iniziativa benefica che era quella dell'ospedale Regina Margherita, per cui hanno parlato di sistema, sono andati a vedere altri precedenti con altri marchi, in realtà quella donazione era già stata fatta a Regina Margherita, erano già stati versati 50.000 euro, dice Chiara Ferragni, abbiamo chiesto a noi che venisse fatta anche questa donazione dei 50.000 euro in fase contrattuale, un'operazione che era collegata a questa, dice Fazio, allora che bisogno c'è di scrivere questa cosa? Per noi era una cosa, dice Chiara Ferragni, che mi faceva piacere, noi volevamo comunicarla, noi siamo sempre dell'idea che la beneficenza, io non sono totalmente dell'idea che la beneficenza vada fatta solo in maniera privata, io l'ho fatta privatamente come tante altre persone, dice la Ferragni, però la beneficenza a volte quando la fai pubblicamente può creare fenomeni di emulazione, può anche accendere un faro su delle cause sociali, a me è successo più volte, è successo a Sanremo, io quando ho iniziato a Sanremo, quando ho deciso di prendere l'incarico di conduttrice, ho deciso di devolvere il mio intero cachet all'associazione Dire, Donne in Rete contro la violenza, che si occupa appunto di aiutare donne vittime di violenza degli uomini, violenza fisica, psicologica, economica, e non mi sono limitata a donare il cachet, nel senso ho cercato di farle parlare in tutte le sedi possibili, e la stessa cosa abbiamo fatto per esempio per creare effetti emulativi col Covid, abbiamo visto anche nel filmato, io e Federico abbiamo fatto una donazione iniziale di 50 mila euro l'uno, che se non avessimo comunicato sarebbe rimasta a 100 mila euro. Certo, ma quello che stupisce, dice Fabio Fazio, è che una che la comunicazione la conosce come te, è proprio per tutte le cose che avete fatto, ma perché cadere in questa vicenda, nel senso, dice, la comunicazione però non era chiara, dice Fazio, se no non staremo qui a parlarne. No, sicuramente poteva essere fatta meglio, dice la Ferragni, secondo te qualcuno, altra domanda di Fazio, può essere stato indotto a pensare che comprando quel pandoro effettivamente facesse beneficenza. Ecco, questa è la domanda a crew. Dice Chiara Ferragni, effettivamente se le persone hanno capito male le cose, se le persone hanno capito male le cose, le cose potevano, cioè hanno capito male, le cose potevano essere fatte meglio, dice Chiara Ferragni, e gli dispiace tantissimo, perché evidentemente se qualcuno ha capito così, c'è stato un errore. Insomma, non risponde proprio sul merito, perché Fabio Fazio mi sembra insistere proprio sul punto, ma come hai fatto a non accorgertene, invece lei continua con la sua posizione, non se ne accorta, però dice Fabio Fazio, questo ti fa onore, perché comunque riconosce che c'è stato un errore. Ed è un influencer che consiglio daresti a Chiara Ferragni in questo momento, praticamente domanda Fazio. Dunque di non essere, di non cercare di essere sempre forte, tutto in pezzo, dice Chiara Ferragni, o per essere perfetto, togliersi l'idea, io questo è da anni che sto cercando di farlo, che non si può essere perfetto, tutti sbagliamo, tutti facciamo errori. È bello far vedere anche le imperfezioni, perché quando ero piccola, io veramente guardavo le modelle, le attrici, le cantanti, e immaginavo il loro successo, dicevo io, wow, se un giorno io riuscirò mai ad avere quel successo, mi sentirò la persona più in pace al mondo, niente mi potrà scalfire. Io sono arrivato ad avere degli obiettivi molto più grandi dei sogni che avevo da bambina, eppure le insicurezze che avevo da ragazzina sono le stesse che mi porto adesso. Ma voi le fragilità le avete sempre mostrate, dice Fazio anche, e questo è giusto, anche nella serie, nei Ferragni, dice Chiara, per me è importante parlare di questo, delle fragilità, delle insicurezze che non vanno mai via, e ti rimangono per sempre, bisogna imparare a conviverci, ad avere anche intorno a noi un grosso supporto, un gruppo di supporto che ti può aiutare anche quando tu non credi più così tanto in te stesso, avere invece delle persone che ti possano far credere in te stessa, interrompe Fazio, senti Chiara, ma tu non pensi che però adesso i rapporti commerciali e beneficenza debbano viaggiare su binari paralleli? Adesso c'è una normativa anche più chiara per questo tipo di operazioni, dice Chiara Ferragni, però sì, l'ho detto anche tre giorni dopo che è scoppiato questo caso Balocco, ho fatto un video perché ero terrorizzata da non dimostrare la mia buona fede, io volevo che le persone sapessero che quello che era stato fatto, se anche le cose potevano essere fatte meglio c'era buona fede, per cui io mi sono messo a fare questo video che poi è stato analizzato, io mi ero anche truccata, pensavo di essere anche truccata recentemente e invece dicevano la fatta apposta struccata, però l'idea era che se qualcuno ha frainteso io restituisco tutto quello per le mie società, tutto quello che le mie società hanno guadagnato perché io voglio dimostrare la mia buona fede, chiedo scusa, io non faccio mai più operazioni di questo genere che non sono state più fatte da quel momento in poi perché comunque sono troppo, se creano frattentimenti, è sbagliato, io non voglio ritrovarmi in queste situazioni in futuro, quindi col senno di poi, sì, era meglio scollegarle. E senti Chiara, dice Fazio, ho detto all'inizio che la sincerità è una parola fondamentale in questa nostra conversazione, allora volevo, prima di tornare alla tuta grigia, anche quello è un discorso che mi ha molto colpito, volevo farti vedere quest'altro filmato, queste sono tutte immagini che avete pubblicato voi, quindi sono tutte cose vostre dei vostri social, non ci siamo naturalmente permessi di toccarle ed ora stiamo guardando, insomma ecco, e forse si arriva ad un'altra domanda che molti, molti anche di voi che immagino ci state ascoltando in questo momento in diretta, una domanda che tutti noi ci facciamo perché sta facendo vedere le immagini di Fedez e la Ferragni della famiglia felice quando almeno lo era per cui andremo, sicuramente Fazio andrà a chiedergli qualcosa su ciò che tanti si aspettano di sapere perché le voci sono tante anche le indiscrezioni ma ancora non c'è una parola definitiva su quello che sta succedendo tra Fedez e Chiara Ferragni lo vedremo ora fra un momento sicuramente Chiara Ferragni ci farà capire qualcosa di più tra qualche istante dopo questo video che Fazio ci sta facendo vedere in questo momento e si torna in studio Fazio domanda gli dice se vuole un fazzoletto insomma per le lacrime praticamente ma ce l'ha Chiara Ferragni se l'ha portato questo però mi serviva per dire una cosa dice Fazio perché quando in questi giorni cioè tu hai raccontato tutto di te di voi tutto dall'ecografia a qualsiasi cosa però dice Chiara Ferragni ho raccontato tanto ma non tutto certe persone pensano che quando pubblichi tanto perché sei una persona social come me che ho pubblicato tanto della mia vita certo comunque rinunci a una parte della tua privacy in favore del tuo racconto personale io sono sui social media da quando avevo 15 16 anni ho cambiato i social media ma il mio racconto è rimasto sempre lo stesso la mia faccia la mia vita i miei sogni quindi dice la Ferragni in realtà non c'è differenza fra mondo virtuale quello che fai vedere e quello che faccio per te virtuale in realtà sono la stessa cosa dice Fazio però quella parte che tu ci mostri dice Fazio coincide io sono autentica quella chi mi conosce dice quella è una parte di quello che sei ci sono altre mille sfumature di quello che sei di quello che sei però quello che vedi è autentico e le persone alcune se ne rendo conto altre naturalmente no dice la Ferragni però continua Fazio vorrei che tu provassi a spiegare perché l'ho trovato davvero unico cioè esce la notizia improvvisamente in questo momento di allontanamento spero che sia un momento dice Fazio attenzione tra te e Federico e Chiara Ferragni risponde vediamo non lo so per cui ecco questa è già una risposta beh dice Fazio vediamo non so ok ma non mi permetto ovviamente di aggiungere nulla a tal proposito ma la prima cosa che è stata detta dice Fazio non è stata peccato meno male finalmente mi dispiace qualsiasi cosa si poteva dire invece è stato detto è una strategia per cui torniamo a Openheimer è come se fosse impossibile proprio per questa coincidenza fra mondo reale e mondo virtuale dice la Ferragni si pensa sempre che ci sia che un personaggio sia artificiale quindi si pensa che dietro ogni mossa che io faccio ci sia un pool di esperti qualcuno che mi consiglia io stratega che decido ok adesso io e mio marito ci allontaniamo per far credere questa crisi quando purtroppo non è così cioè mi piacerebbe essere una stratega ma non lo so sarebbe meglio la realtà delle cose per cui no purtroppo non è una strategia vabbè comunque ci sono state date a diruttare Pamela Prati che si è inventata il matrimonio con una persona che non esisteva insomma e non divaghiamo e continuiamo a seguire se no perdiamo delle cose dice Fazio ma quello che trovo dice Chiara Ferragni aspettate un attimo dice Fazio è viva però la cosa quando condividi tanto dice appunto Chiara Ferragni proprio faccio di essere un personaggio pubblico tu rinunci alla tua privacy e quindi cioè dice praticamente Ferragni quando tu dai una parte di te la rendi pubblica poi è difficile avere privacy nei momenti in cui chiedi privacy dice Fazio tu costruisci un mondo parallelo fatto di immagini private però sono costruite se tu che decidi di metterle online qualunque cosa di privato accada uno pensa che faccia parte di quel racconto che tu hai in qualche modo scritto di quella narrazione che tu hai voluto in questo caso ti chiedo come si fa a far capire che invece una cosa è vera come ne esci da questa cosa risponde la Ferragni vorrei saperlo anch'io cioè ci sono delle persone anche in questo momento mi sento di ringraziare oltre ai follower perché le persone che ti seguono da tempo imparano a capirti e tante volte riescono a scrivermi i messaggi anche soltanto guardando una mia foto anche se io non dico niente quindi ci sono persone che riescono a comprenderti al 100% poi ci sono tante altre persone che invece vedono del marcio qualcosa di diverso dalla tua intenzione però fa parte del gioco dei social media quindi io cerco di essere più autentica possibile però ci sarà sempre qualcuno che non la vede così quindi non posso farci più di tanto purtroppo non c'è una bacchetta magica per quello e domanda Fazio noi abbiamo messo una collazione di copertine di te Federico e fa vedere delle copertine in cui sono loro abbracciati innamorati con i figli eccetera le copertine di giornali perché mi ricorda sai quando ero piccolo io c'erano i reali sulle copertine dei settimanali nel senso che voi avete davvero sostituito nell'immaginario quell'idea lì cioè di famiglia reale insomma in cui tutti conoscono sanno si appassionano al matrimonio a quando nasce un figlio e dice Chiara Ferragni siete stata una coppia molto social dice Fazio sì ma pop molto di più e davvero questa è un'altra questione quando è così la privacy non esiste la privacy non esiste dice Chiara Ferragni intanto l'abbiamo deciso noi non è colpa nemmeno dei media io lo faccio da quando avevo 16 anni o mi dicevo prima Federico era una persona molto simile a me in questa cosa in questo modo di raccontarsi quando ci siamo incontrati naturalmente è stato il botto sui social perché ognuno raccontava l'altro a modo suo che vi vogliate bene questo credo sia un dato di fatto dice Fazio Chiara conferma dice certo certo quindi abbiamo entrambi rinunciato alla nostra privacy in favora del nostro racconto personale ci andava di fare così o penso di continuare a fare così è il mio modo di raccontarmi da quando sono cresciuta con questa idea cioè con l'idea di raccontare me stessa e se sono chi sono lo devo al fatto di raccontare me stessa naturalmente ci sono anche dei lati negativi però fanno parte di tutto il gioco e l'altra cosa dice Fazio poi parliamo del futuro per un attimo ma l'altra cosa è che questa famosa tuta grigia anche quello è diventato strategia cioè ti metti una tuta grigia perché vuoi sembrare spenta dice no fa ridere Chiara Ferrani tutta la dietrologia dietro questo video perché ero vestito così da sabato questa l'ho fatta lunedì mattina stanno mostrando la foto di questo video di cui abbiamo anche qui parlato ero truccata a modo mio e invece sembrava ci hanno letto chissà che cosa dicevano che ero struccata però sempre la cosa di prima dice Fazio come facciamo a essere credibile praticamente dice la Ferrani chi vuole credermi giusto mi creda chi mi conosce mi crede perché penso che riescano a vedere il mio modo di essere autentica ci sono tante altre persone che non lo vedranno mai che non vogliono crederci va bene così io non posso riuscire a convincerle purtroppo facendo niente senti ma dice Fazio col senno di poi cosa è che non rifaresti dice la Chiara non rifarei questo tipo di operazioni continuerei a fare come ho fatto in passato cioè attenità o attività benefiche completamente benefiche o attività commerciali che sono il motore delle mie due società che danno lavoro quasi a 50 persone quindi questa parte ci serve anche quella legarle probabilmente questi frantendimenti che io non immaginavo una volta che ho visto una sentenza che diceva ci sono stati dei frantendimenti queste cose potevo farle in maniera diversa posso solo dire che mi dispiace dice Fazio insiste giustamente perché questo vorremmo sapere molto più chiaramente ed in quel momento non ti sei accorta insomma che qualcosa non andava dice Chiara no in quel momento no per me era abbastanza chiara il tutto però evidentemente dovevano essere fatte soprattutto spiegate anche in quel caso in maniera diversa senti dice Fazio molti con molto affetto mi chiedono di dirti se con Federico vi siete risentiti in questi giorni risponde Chiara Ferrani ci sentiamo ci sentiamo perché siamo due persone che comunque si vogliono bene e quindi naturalmente naturalmente non è che da un giorno all'altro chiudiamo i conti eccetera chi si è visto si è visto è un periodo di crisi ne abbiamo avuti anche in passato dice Fazio meno male che non l'abbiamo saputo ne abbiamo avuti anche in passato continua la Ferrani questa è una crisi un po' più forte per cui vediamo non so vabbè adesso ci sono due periodità naturalmente parlano dei loro due bambini è molto interessante per cui c'è quindi una conferma di questa crisi e non sappiamo se questa crisi possa rientrare domanda ancora Fazio credi di cambiare qualcosa nel modo di comunicare dice sì Chiara Ferrani ma non solo nel modo di comunicare ho fatto tutto troppo velocemente non mi sono mai fermata a vivere il presente e qui sembra avere un po' di commozione e l'augurio che vi faccio e faccio tutti quanti dice Chiara Ferrani è quello di vivere le giornate più nel presente ero troppo proiettata verso il futuro sai quante volte mi sono lesa conto che il ricordo di qualcosa che ho vissuto era più piacevole di quando lo vivevo in quel momento e questo era perché in quel momento ma non è solo colpa dei social come domanda Fazio ma non soltanto colpa dei social anche perché siamo proprio perché siamo abbiamo il cervello che è proiettato al futuro e certe volte non riusciamo a goderci i momenti più belli più importanti e non ci rendiamo nemmeno conto in quel momento in cui stiamo vivendo di quanto siano importanti per cui mandare avanti le mie cose mandare avanti le mie aziende questa cosa la farò sempre continuare a godermi il presente ma tu una volta prendere il telefono e lanciarlo non ti viene l'idea dice Fazio beh mi è capitato di avere questo istinto risponde la Ferragni però la cosa più bella ogni tanto è metterlo via e provare a concentrarsi su quello che sto vivendo senti dice Fazio ma tu che sei così ascoltata così seguita soprattutto dai ragazzi dai giovani ecco consiglio puoi dare perché questa bomba atomica come ti ho detto prima non esploda fra le mani dice Chiara di rendersi conto che i social non sono tutto perché per me sono stati una parte preponderante del mio lavoro spero lo saranno anche in futuro io ho conosciuto persone stupende sto facendo il lavoro dei miei sogni grazie ai social è un mondo bellissimo anche tanti l'acti negativi ma c'è tutta una vita fuori che va vissuta e anche in questi giorni i primi giorni in cui mi sono sentita dentro questa agonia mediatica io ho il terrore di uscire di casa proprio di confrontarmi con le persone perché mi sentivo accerchiata dai media dai social media anche invece il momento in cui sono uscito di casa ho trovato persone fantastiche persone che continuavano a chiedermi la foto come prima che mi davano anche sempre una parola di supporto mi facevano sentire bene credevano alla mia buona fede quindi uscire fuori dal mondo reale mi è servito tantissimo ed è una cosa che voglio fare sempre di più chiede Fazio adesso ci sarà la vicenda giudiziaria che andrà su un binario ma poi c'è anche la vicenda tua con te stessa proprio che riguarda come uscire da questo momento e recuperare quella che prima chiamavamo sincerità la credibilità insomma voleva dire Fazio da dove cominci domani mattina com'è la tua giornata domani dice Chiara non lo so domani mattina andrò in ufficio è proprio un vivere di stand by step capire giorno dopo giorno cosa fare migliorarsi cambiare le cose che non hanno funzionato fino ad ora e sperare che ogni giorno sia migliore del precedente un'ultima domanda stupidissima da parte di Fazio lo dice lui è stato complicato scegliere il vestito ha detto sì Chiara Ferragni dice sì è molto complicato voglio fare una cosa semplice ma non troppo castigata perché se no pensano chissà cosa volevo fare alla fine ho scelto un look molto semplice classico come piace a me Fazio ringrazia e così finisce questa intervista naturalmente continueremo a commentare le parole di Chiara Ferragni nelle prossime ore fatemi sapere cosa ne pensate di ciò che vi ho appena fatto ascoltare commentando in diretta questa ospitata eccezionale di Chiara di Chiara Ferragni naturalmente abbiamo delle novità delle notizie dunque che vi stiamo portando in diretta ossia il fatto che la separazione comunque l'allontanamento e la crisi tra Fedez e la Ferragni dunque è vero è un allontanamento confermato da Chiara e sicuramente e ha detto anche che non sa se questo allontanamento cioè se questa crisi passerà perché è più importante delle precedenti sul caso Balocco lei continua a dire a parlare di fraintendimento non ci sono dunque grosse novità dalle parole che abbiamo ascoltato e Fazio ha provato a tirargli fuori un po' di cose devo dire un'intervista molto interessante vi ringrazio per essere stati insieme a me qui a scoprire insieme come attendevamo da molti giorni e ne abbiamo parlato cosa avrebbe detto stasera Chiara Ferragni sono stato felice di condividere ciò che abbiamo seguito in diretta insieme a voi se non siete ancora iscritti al mio canale YouTube Marco Puggini mi raccomando fatelo perché così ci date una mano a crescere non vi costa nulla per noi è molto importante anche perché molti di voi lo so lo vedo dai dati sono spettatori di ritorno molti di voi continuano ad ascoltarci a vederci qui su YouTube ma non si sono ancora iscritti per cui mi raccomando fatelo e vi invito naturalmente anche ad ascoltare la mia musica e vi annuncio che domenica prossima uscirà il mio nuovo singolo nel mio piccolo inferno un grande abbraccio a tutti voi e ci ascoltiamo più tardi per vedere cosa invece stasera ci dirà Luciana Littizzetto per cui a più tardi sempre qui a Radio Puggini On Air ora buona musica